Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV6. La cronaca ci porta ad Atri dove un vasto incendio si è sviluppato nella notte a ridosso del centro storico. Molti abitanti sono stati evacuati e le fiamme hanno lambito le abitazioni. Vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile e aquile del parco sono al lavoro. Stamattina l'arrivo di un Canadair e di un elicottero Ericsson, ma il peggio sembra ormai essere alle spalle. Jacopo Forcella. Forse il forte vento, un traliccio che probabilmente non regge e cade dando il via ad un rogo che ha fatto tremare Atri e gli abitanti a ridosso del centro storico, evacuati e portati in salvo in piena notte nel piazzale dell'ospedale San Liberatore. Ore di paura e di lavoro intenso per i vigili del fuoco per domare. L'incendio sviluppato in via Colbe verso Contrada Panice, angolo ricco di vegetazione, giusto un piano più in basso del centro di Atri. Immediato l'allarme e le procedure per mettere in sicurezza tutti gli abitanti che stamattina hanno assistito alle operazioni di spegnimento che continuano grazie all'ausilio di Canadair e un elicottero Ericsson. In questo momento sicuramente la situazione è migliore rispetto a questa notte, perché questa notte ci sono stati dei momenti veramente critici, dove anche grazie alla collaborazione dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri, purtroppo si è reso necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni. Adesso nella parte prettamente abitata di Atri la situazione è sotto controllo. Adesso c'è la parte vegetativa in basso che ancora brucia in alcuni punti, anche se al momento possiamo dire che pure lì c'è una situazione abbastanza sotto controllo, anche perché il collega DOS sta operando con due Canadair e un elicottero, un Ericsson. Al momento siamo 13 unità operative, Teramo e Roseto, ragazzi della protezione civile e le operazioni penso che andranno avanti ancora per alcune ore. Poi è arrivato l'Ericsson da pochi minuti, l'Ericsson è un velivolo che può invece effettuare il rifornimento anche se il mare è mosso, mentre invece due Canadair da questa mattina hanno dovuto effettuare il rifornimento al lago di Campotosto, appunto per il vento e per le condizioni del mare che non permettevano il rifornimento. Abbiamo visto ancora qualche rogo, anche se piccolo, che ogni tanto si riattiva. Sì, perché non sembra, ma in alcuni punti il vento ancora è presente, pertanto in poco tempo rialimenta delle zone che sembrano quasi spente e invece poi nel giro di pochi minuti la combustione riparte anche in modo abbastanza vivo. Però speriamo nell'arco della giornata di spegnere completamente questo incendio. Il fumo continua e continuerà ancora per ore, per questo la raccomandazione ai cittadini di restare a casa naturalmente con le finestre chiuse, continuerà per ore perché c'è una parte dell'incendio che continua e non era raggiungibile purtroppo dai vigili del fuoco via terra e quindi l'unica soluzione è con i Canadair che sono arrivati non appena è stato reso possibile a seguito delle condizioni climatiche. Quindi purtroppo il fumo continuerà per ore, però ormai siamo fuori pericolo nel senso che poi è stato domato con la grande efficienza dei vigili del fuoco che sento di ringraziare insieme all'arba dei carabinieri, alla polizia e alla protezione civile che hanno fatto un intervento deciso. Io ho ricevuto la prima chiamata alle 5 meno un quarto di questa mattina, mi sono recato subito sul luogo, già c'erano le squadre e poi abbiamo iniziato l'evacuazione. Ecco, il ritenuto di non dover fare un comunicato pubblico ma con un'evacuazione fatta da parte dei carabinieri suonando nelle case. Quante persone sono state evacuate più o meno? Ma guardi, la parte necessaria da evacuare era quella che andava da Santa Rita fino a Porta Macelli. Ancora cronaca, operazione noleggio Ombra portata a termine nelle ultime ore dai finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo nel campo del noleggio di unità da di Porto. L'attenzione dei militari si è focalizzata su numerosi siti specializzati nell'organizzazione di vacanze a bordo di imbarcazioni. Nel corso delle indagini è stato possibile individuare un vero business di servizio di noleggio impeccabile ma completamente abusivo e in violazione del codice della nautica da di Porto con profitti occultati al fisco. In Abruzzo sono state scoperte cinque persone che nel corso degli ultimi anni hanno effettuato illegalmente un totale di 61 crociere con modalità non conformi al codice della nautica da di Porto percependo circa 130 mila euro totalmente in nero. Ed ora la pagina politica. È la deputata uscente Daniela Torto, la capolista per il listino del Movimento 5 Stelle alla Camera. L'esito del voto online ha evidenziato che la capogruppo della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione con 662 preferenze è stata la più votata insieme alla riconfermata senatrice di Girolamo. Sono arrivati questa notte i risultati delle consultazioni, le cosiddette primarie all'interno del partito delle 5 Stelle. L'onorevole Daniela Torto è stata riconfermata anche per questa volta ed è capolista del listino per il Movimento 5 Stelle. Quindi una riconferma che lei affronta adesso con quali obiettivi? Sicuramente è una grande soddisfazione anche perché riconosce un lavoro fatto ed è importante che la base abbia saputo apprezzare il lavoro svolto in questi quattro anni. Per me sarà un proseguimento del cammino già iniziato e quindi poter portare a compimento tutte quelle misure per cui mi ero spesa. Una fra tutte è il Superbonus che la ritengo una delle misure più efficienti ed efficaci e parlando di un ambiente pulito non posso che menzionarla. Riguardo invece la proposta che era arrivata dal Presidente Conte dell'istituto bloccato, lei come l'ha vista questa cosa? Sicuramente era necessario che il Presidente scegliesse delle persone di sua fiducia ma soprattutto che in questo percorso lo hanno aiutato molto da vicino sia per quanto riguarda i ruoli che per quanto riguarda le competenze. Poi ho apprezzato tantissimo la presenza di personaggi importanti e autorevoli e questo come me è tutta la base, ha saputo apprezzarlo dato che in plebiscito è stata accolta questa proposta e questo listino. Come lavorerà da oggi? Come sempre a testa bassa, pronta ad ogni sfida e soprattutto al fianco dei cittadini. E dunque facciamo un punto sulla politica perché Centrosinistra, 5 Stelle e Terzo Polo hanno ormai ufficializzato le candidature per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Mancano quelle del centrodestra che con ogni probabilità giungeranno tra domenica e lunedì. A fare il punto delle trattative abbiamo ascoltato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Presidente Marsilio, le elezioni sono imminenti, come si sta lavorando per la scelta dei candidati? Ormai mancano poche ore, si sta componendo il quadro con tutta la coalizione perché come sapete sui collegi luminali bisogna chiudere gli accordi e l'elenco dei candidati in tutta Italia. Ormai attendiamo ad Oras che vengano sciolte le ultime riserve. Noi comunque abbiamo in Serbo una squadra molto forte con grandi competenze politiche e amministrative, persone che sicuramente a Roma sapranno rappresentare l'Abruzzo meglio di quanto non sia accaduto nel recente passato e insieme al Presidente e alla Giunta regionale potranno mettere in campo una squadra di supporto e di sostegno alle esigenze, alle rivendicazioni e bisogni di questo territorio con un legame fortissimo con il Governo nazionale. Io penso che lavoreremo perché possa vincere il centrodestra e Giorgia Meloni possa essere il Presidente del Consiglio prossimo venturo con la quale abbiamo un rapporto strettissimo e questo insieme a lei una squadra importante di tutto il centrodestra con legami politici umani molto profondi tra la classe dirigente abruzzese e quella che andrà a Roma nei ministeri a governare. Questo credo che possa darci la spinta in più per portare avanti e concludere i programmi che abbiamo messo in campo per potenziare l'Abruzzo, le sue infrastrutture, i suoi servizi e le sue risorse. Dile con una frase, qual è il metodo che state scegliendo in questo momento? Intanto il metodo di costante confronto con il territorio, con i dirigenti del territorio, con le amministrazioni locali, cercando, certo non esiste il metodo perfetto, nessuno è infallibile e ci adattiamo anche al sistema elettorale che ci viene dato e quindi da questo punto di vista cercheremo di fare il meglio ma io credo che sarà una composizione molto equilibrata e molto rappresentativa del territorio che permetterà a tutti di dare il massimo dell'impegno per ottenere il miglior risultato possibile. Voltiamo pagina, meno di un mese alla riapertura delle scuole in Abruzzo e così le amministrazioni comunali sono già al lavoro per un ritorno in aula in sicurezza, questo sia dal punto di vista del Covid che dei lavori alle strutture. Il punto con l'assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Tra poco riapriranno le scuole, si spera una riapertura delle scuole anche senza il distanziamento, soprattutto senza le mascherine, però il Comune di Pescara è pronto per un'eventuale ripartenza del Covid all'interno delle scuole. Allora, questa è un'altra bella notizia che speriamo sia veri, che con questo calo dei contagi possiamo ripartire con tranquillità, quindi riportare i bambini a scuola senza la mascherina. Sono già in contatto con i presidi che convocherò entro la prima settimana di settembre per organizzare il tutto e questa è una priorità perché assieme alla Serenissima che gestirà ancora i pasti nelle scuole dovremo decidere se continuare a far mangiare i ragazzi nelle classi e la mia proposta sarà questa e poi decidere assieme ai presidi tornare magari nei refettori dopo qualche mese, quando ci sarà un po' più di tranquillità. Invece per quanto riguarda i presidi scolastici, di solito si fanno le verifiche prima di tornare a scuola e come siamo messi? Allora, le verifiche le facciamo costantemente, abbiamo delle scuole dove proprio in questi giorni stanno cominciando i lavori, in alcune hanno già iniziato al primo di luglio, appena che sono state chiuse e mi riferisco a Via Gioberti, alla scuola Alpianotti, a Via Cavour, a Colle Scorrano, quindi sono tutte scuole che sono in fermento, piene di lavori. Poi abbiamo altre scuole, ad esempio la Benetto Croce che, ringraziando il Dio, è andata benissimo, la ditta è stata bravissima e ha ultimato i lavori, quindi sarà a disposizione dal 12 settembre regolarmente. A Via Miede Tignoto, la scuola elementare Codignola cominceranno i lavori dal primo settembre e non ultimo però abbiamo un problema, questo bisogna evidenziarlo, la scuola media Michetti che la ditta di Roma ci ha creato molti problemi, quindi stiamo cercando di trovare una soluzione e molto probabilmente faremo la rescissione del contratto, però nel frattempo i ragazzi sono sistemati regolarmente a Villa Fabio. Diciamo che ci aspettavamo anche questo, di poter riaprire la Michetti anche, se non a settembre, magari a gennaio. Noi ci proveremo, faremo il possibile, però la vedo un po' dura. Rimaniamo in argomento, 2 milioni e 400 mila Euro è l'ammontare del finanziamento che si è aggiudicato nei giorni scorsi il Comune di Città Sant'Angelo. Con questo fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verrà realizzato un nuovo nido in località Madonna della Pace. Sentiamo. Sindaco Perazzetti, tra poco si torna a scuola con delle belle notizie per il Comune di Città Sant'Angelo, perché tra il 2023 e il 2024 nascerà questo nuovo polo, questo nuovo asilo nido con dei finanziamenti del bando del PNRR? Era un progetto che avevamo pensato già dal 2020, lo volevamo realizzare con altri asset di finanziamenti, ma naturalmente facendo seguito a quello che era l'indicazione del PNRR proprio sugli asili nido, l'abbiamo presentato. È un progetto innovativo perché vede la costruzione di un asilo nido per 60 posti per aiutare tutte le giovani coppie che oggi hanno questa dieta notizia di avere dei figli. È un polo che nasce a Madonna della Pace, lo avevamo inserito all'interno del nostro programma elettorale come primo punto proprio per venire incontro alle famiglie. Un progetto innovativo che vede una struttura totalmente legno antisismica con ampie vetrate, ampi spazi e soprattutto ampie zone verdi all'esterno dove i bambini potranno godere dello spazio. Un progetto che andrà anche a rivedere la viabilità della zona, spesso in crazy con degli ingorghi. Sì, perché quella zona di Torre Liguerizia in cui è presente l'altra grande scuola che è il polo della Verzella, vede delle situazioni di sofferenza viaria soprattutto in entrata e in uscita negli orari scolastici. Ecco perché a fronte di quella problematica lì abbiamo voluto posizionare questo asilo nido e di concerto fare una viabilità di uscita da quella zona creando quindi una grande rotatoria intorno al centro abitato che è presente vicino alla scuola così da lenire quelle che sono le problematiche dei residenti della zona. Per essere più chiari c'è anche, capitolo elezioni, c'è stata la crisi di governo, i fondi PNRR sono sicuri quindi la scuola è al sicuro? Dovrebbero essere sicuri, sono sicuri anzi, non ne ho dubbi anche perché è un fondo che servirà a far ripartire la nostra nazione e noi amministratori dobbiamo essere bravi a sfruttarli nella loro interezza, dobbiamo essere pronti a presentare progettazioni, studi di fattibilità avanzati e ci hanno dato questa possibilità per poter far ripartire le nostre comunità. Il servizio era firmato da Stefano Recanati, voltiamo pagina perché ieri la presentazione del treno ambulanza per il Jova Beach Party è stata anche la prima uscita ufficiale del neopresidente di TUA, la società di trasporto unico abruzzese. Gabriele De Angelis, da poco entrato nel ruolo di presidente TUA, tra gli altri obiettivi principali avrà la cura dei bilanci ma strizzando un occhio alle innovazioni tecnologiche. Sentiamo. Prima uscita ufficiale come presidente TUA, allora come accoglie questo mandato che si annuncia un mandato pieno di impegni all'inizio di una stagione nuova? Intanto sono onorato di poter svolgere questo ruolo che ho definito un ruolo impegnativo in quanto l'atteggiamento che mi avvicina a questo incarico è un atteggiamento di attenzione e laborioso affinché si possano sviluppare le dinamiche e continuare con le traiettorie positive che questa azienda già ha portato in campo. È un'azienda a mio avviso tua straordinaria che ha un potenziale enorme che potrà esprimere in futuro e tutto a vantaggio della collettività, degli utenti e sono sicuro che sarà un'azienda che in avanti porterà delle innovazioni che saranno molto apprezzate anche da tutta la collettività abruzzese. Quali obiettivi raccoglie questa eredità? L'obiettivo è quello di tenere in buona cura un'azienda e un consiglio di amministrazione quanto anche sia stato fatto bene in passato deve sempre alzare un po' l'asticella delle aspettative, quindi è un obiettivo sfidante perché ripeto è un'azienda importante, molto complessa che ha ancora un grande potenziale da esprimere quindi il consiglio di amministrazione dovrà mettersi alla prova per portarla un passettino avanti. È compito di tutti i CDA quello di poter sfidare e alzare l'asticella perché ogni consiglio di amministrazione si rispetti deve fare in modo di lasciare un qualcosa che testimoni un passaggio in più, un passaggio in avanti dell'azienda che gestisce. Restiamo in argomento perché per una mobilità snella a Chieti il problema si risolverà presto grazie ai nuovi parcheggi e alla scala mobile che sostituirà quella non più a norma e che tornerà a collegare il terminal dei bus con via a signorio. Assessore a settembre ripartiranno i lavori per la riqualificazione della scala mobile che collega la parte alta di Chieti con la parte bassa, un collegamento importante che risolverà e decongestionerà molto anche il traffico su Chieti. Sì, è un intervento importantissimo per quanto riguarda la città, a settembre inizierà questo lavoro che sarà abbastanza importante, di fatto noi inizieremo per quanto riguarda la riqualificazione della scala mobile che sarà smantellata e ricostruita. L'intervento riguarda anche la costruzione di un nuovo parcheggio con l'ampliamento del parcheggio esistente di 100 posti, quindi sarà un intervento fondamentale per la mobilità cittadina che si va a collegare con anche gli altri interventi che noi abbiamo predisposto e abbiamo inserito in un programma della mobilità dove l'intenzione nostra, l'obiettivo nostro è quello di arrivare a fine legislatura di aver risolto questo problema che tantissimo tempo che è stato messo da parte e mai affrontato. Noi con questo cantiere insieme anche alla riqualificazione del parcheggio di Piazza Garibaldi dove abbiamo ottenuto il finanziamento di 15 milioni di Euro per le qualità dell'abitare e insieme alla rimodulazione degli interventi della teleferica o funicolare che doveva collegare la parte bassa, quindi l'università, fino alla chiti alta al terminal, abbiamo rimodulato l'intervento perché crediamo che il problema fondamentale della città sono effettivamente i parcheggi, i parcheggi e la mobilità, quindi noi con l'intervento di rimodulazione che abbiamo chiesto da Regione e ci ha concesso questa autorizzazione per rivedere tutto l'intervento andremo a creare un altro parcheggio multipiano di 400 posti auto nell'area di Via Ciampoli dove già abbiamo predisposto tutti quanti gli atti e un altro intervento di parcheggio nella parte bassa della città. Oltre questo c'è compreso anche lo studio della mobilità che ci permetterà di migliorare sia tutto l'asset dei percorsi dei pullman, dei vari bus, ma soprattutto anche per creare una mobilità più veloce e più snella all'interno del territorio cittadino. Che tipo di impegno economico è previsto? Per quanto riguarda l'intervento della Scala Mobile è un intervento di 4 milioni di Euro, suddiviso su due interventi, quindi una nuova Scala Mobile di ultima generazione a tre canne invece che due come quella esistente e un parcheggio di 200 posti per un totale di 4 milioni di Euro. Per quanto riguarda invece l'intervento che abbiamo rimodulato in Regione siamo intorno ai 13 milioni di Euro con due parcheggi più uno studio della mobilità di servizio al territorio comunale. E rimaniamo a Chieti dove da settembre l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato raddoppierà, sarà infatti anche presente nella parte bassa della città, la seconda domenica del mese il mercato che offre oggettistica, mobili, suppellettili ed altro d'antiquariato. Anche Chieti Scalo da fine settembre potrebbe avere il suo mercatino dell'antiquariato, c'è infatti in cantiere un progetto di questo genere? Crediamo fermamente nei mercatini che caratterizzino la nostra città, che possano caratterizzare la nostra città. In tutte le sue aree abbiamo, come ricorderete, indetto da più di un mese un avviso proprio per il mercatino di Corso Marruccino, ci accingeremo a settembre ad affidare il servizio, ma come diceva correttamente la nostra idea insieme al nostro sindaco è quella di realizzare un mercatino anche nella parte bassa della città, in quel di Piazza dei Marconi, ovviamente in maniera complementare sia in termini di categorie merceologiche sia in termini di giorni. E potrebbe tra l'altro essere dislocato in giornate diverse da quello che è il mercatino dell'antiquariato a Chieti? Certamente perché il mercatino di Corso Marruccino è previsto per il quarto weekend del mese, per quello di Chieti Scalo in via sperimentale proveremo a farlo il secondo weekend del mese, anche dal punto di vista merceologico, quello del Colle sarà più incentrato sull'antiquariato, quello dello Scalo avrà un focus sul collezionismo. Insomma noi crediamo molto nei mercatini di tradizione che possano veramente implementare le presenze in città che già sono crescenti grazie al lavoro che come amministrazione e con il lavoro del collega De Cesare stiamo facendo sugli eventi, noi come Assessore del Commercio crediamo che questi aspetti legati all'attività mercatale possano caratterizzare un territorio, possano rappresentare motivo di indotto positivo per tutto il comparto e quindi siamo al lavoro per chiudere questi due appuntamenti, il primo chiaramente già in settembre e il secondo tra la fine di settembre e primi di ottobre. E siamo ora alla pagina sportiva, uno degli ultimi arrivi in casa Pescara è Aristidi Colai, il giocatore di nazionalità albanese arriva a titolo definitivo dall'Alessandria nel doppio scambio che ha visto il calciatore Luca Lombardi fare il percorso inverso. 20 presenze e un gol per il classe 1999 nella passata stagione in B con i grigi e rossi. Paolo Renzetti. Aristidi Colai, l'ultimo arrivato in casa Biancazzurra, trattativa che si è conclusa positivamente dopo un lungo tira e molla. Sì, sì, sono contento adesso di essere qua, sono felice di aver raggiunto la squadra e potermi allenare in preparazione al campionato. Quali sono le tue caratteristiche? Io sono un trequartista esterno, mi piace saltare l'uomo, creare superiorità numerica. Arrivi dall'Alessandria, arrivi da un campionato di serie B, seppur non positivissimo per i grigi, scendere in serie C cosa significa per te? No, io la serie C l'ho già fatta, quindi è un campionato molto valido che ti dà una mano a crescere, la retrocessione fa parte del calcio, però come ho detto sono molto contento della scelta che ho fatto e lavorerò per dare il massimo. La serie C che per il Pescara, almeno questo l'augurio dei tifosi, dovrà vedere la squadra puntare, cercare di puntare ad un campionato importante alla promozione. Sì, noi sicuramente faremo un campionato importante per la società, per i tifosi, daremo sempre il massimo e poi è normale che noi speriamo di poter arrivare alla promozione. Cosa conosci, cosa hai sentito di Pescara, di questa piazza, del calore comunque di una tifoseria che è sempre al fianco della squadra? No, è una società che comunque ha scoperto tanti giocatori, è una piazza importante, i tifosi sono caldi, sono presenti, sostengono la squadra e diciamo che anche questo mi ha dato una mano a scegliere la società. Potrebbe essere per te questo un trampolino di lancio definitivo, parlo della tua carriera visto che sei ancora molto giovane. Sì, io sono venuto qua per giocarmi le mie carte, far vedere quello che valgo, darò il massimo a tutte le partite, tutti gli allenamenti e poi speriamo di poter fare il salto con la squadra. Per chiudere, sei da poche ore qui a Pescara, che spogliatore hai trovato? Le prime impressioni, primissime impressioni sul tecnico Alberto Colombo? Lo spogliatoio mi sembra uno spogliatoio eccezionale, fatto di tanti ragazzi giovani e tanti esperti che comunque danno una mano a noi ragazzi giovani, sono molto contento come ho detto, il mister mi sembra una persona molto in gamba e speriamo di riuscire a fare quello che ci dirà di fare in campo. Bocca a lui qua. Crepi, grazie. E ricomincia l'avventura dell'impavida Ortona Volley. Dopo la messa retrocessione della scorsa stagione, il presidente Lanci crede nella pronta risalita nella categoria superiore, anche considerando l'apporto che darà Lionel Marshall. Sergio Zappalotto. Presidente Tommaso Lanci, ripartire è dura, però un obiettivo solo, tornare immediatamente in a due. Io penso, noi stiamo ancora con la spiena piegata dalla botta, dalla batossa che abbiamo preso l'anno scorso. E quanto fa male? Lo so, fa male. Fa male sì perché noi eravamo convinti, ma la decisione più grande è il fatto che eravamo convinti di aver messo su una squadra competitiva che potesse stare alla pari con le altre e l'ha dimostrato nel girone di ritorno, solo che nei momenti topici del campionato abbiamo fallito. Lasciamo stare il passato, pensiamo al futuro che è meglio. Quest'anno io penso che avete letto un po' tutti gli acquisti che abbiamo fatto e quindi già delle persone che abbiamo chiamato per venire a darci una mano per questo campionato si può capire che la nostra non aveva un'intenzione di restare in A3, ma è quella di tornare subito in A2 nel giro di quest'anno. La dimostrazione è il fatto che abbiamo chiamato a giocare con noi un giocatore di fama di conazionale, ma per dire anche qualcosa di più come Marshall. Voi sapete che ha fatto, anche se è con un'età ancora avanzata, l'anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato dove ha giocato. Presidente, diciamoci tutta la verità, è una gran bella squadra, competitiva, forte, attrezzata per risalire in A2. Un punto interrogativo soltanto, se lo chiedono tutti, la panchina. Qualcuno dice che è un po' corta. La panchina, vede, purtroppo non c'era una grande scelta, perché? Non creda che si siamo fermati davanti al fatto di poter prendere o spendere qualcosa in più per poter avere una formazione fortissima, ma tantissime persone hanno rinunciato di venire a giocare in A3. I giocatori di categoria dell'A2 si accontentano di stare in A2 seduti in panchina per non venire a giocare con noi in A3, ma signori belli, le scelte sono loro e non nostre, quindi noi ci siamo andati a prendere i giocatori che pensavamo che giovanissimi, però con delle prospettive molto buone, che avevano dimostrato di fare bene nei campionati dell'anno scorso e sono venuti a giocare con noi. I ragazzi accogliamo la chance di potersi dimostrare in un contesto di Serie A. Edizione 2022 per le svolte di Popoli, il nono round di campionato italiano velocità montagna. Il fiorentino Fagioli della Best Lap ha vinto entrambe le gare sulla nuova B-Posto con motore Synergy. Edizione numero 60 delle svolte di Popoli ha visto l'affermazione di Simone Fagioli su nuova Proto NP-01 Synergy V8. Fagioli ha vinto entrambe le salite di gara con il miglior tempo di giornata ottenuto nella prima in 3.05.85 sulla nuova B-Posto, ultima nata della casa francese e con cui il pluricampione ed alfiere della Best Lap era alla sua seconda uscita, prima in Italia. Un avvincente duello tra due osella ha completato il podio, un secondo tempo a testa per Achille Lombardi e Luigi Fazzino. Lombardi ha rimontato in gara 2 sulla PA 2000 Honda e per soli 9 centesimi si è preso il secondo posto finale sul 23enne Siracusano che ha dato ancora una prova esaltante del livello raggiunto, precedendo il rivale di 4 decimi in gara 1 al volante della generosa PA 2000 con motore turbo. Quarto dopo una rabbiosa risalita per il trentino Diego De Gasperi su osella FA30 fino al secondo tempo in gara 2, l'alfiere V Motorsport ha recriminato qualche imperfezione di guida in gara 1, quinta piazza per il pugliese Francesco Leogrande, tornato a Popoli dopo diverse stagioni e ora sulla osella PA 2000 Turbo è stato gratificato dalla personale progressione in gara. Fuori dai giochi in gara 1 invece Stefano Di Fulvio per una ruota forata sulla osella PA30, naturalmente deluso per l'epilogo della sentita gara di casa soprattutto dopo i riscontri parziali della prima parte di tracciato. Sì diciamo che adesso siamo andati leggermente più conservativi anche cercando di andare a capire un po' la macchina, abbiamo fatto le modifiche al posteriore e mi hanno dato più sicurezza nei punti però l'hanno resa leggermente più sottostrissante negli altri quindi ci sta secondo in alzato. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento con l'informazione di TV6 torna questa sera con il Tg delle 19, vi ricordo anche che il nostro telegiornale è consultabile qualora voi vogliate farlo anche sulla pagina Youtube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, una buona visione dei nostri programmi, arrivederci.